A una di sopra, ad una ventina di chilometri da Bolzano, questo è uno dei tipici negozi ancora presenti nei paesi altotesini. L'impegno da parte della provincia di Bolzano è mirato a garantire la sopravvivenza di esercizi di così piccole dimensioni che però rappresentano un valore aggiunto per la vita dell'intera collettività. Il commercio di vicinato ha una funzione molto importante, soprattutto anche una funzione sociale. Se non ci sono questi negozi anche in periferia, manca un pezzo importante della qualità di vita e inizia quella che è l'urbanizzazione, cioè la gente che se ne va dalla periferia e quella è una catastrofe sia per le zone periferiche ma anche per le città. Il commercio di vicinato svolge una funzione sociale, come detto, che è un effetto esterno positivo che però non ha prezzo, non viene rimunerato e perciò c'è bisogno di un sostegno dalla mano pubblica perché in questo caso il mercato non funziona. Nel 2014 sono stati 53 i negozi che hanno usufruito delle agevolazioni straordinarie a tutela del commercio di vicinato. L'importo medio dei contributi erogati ammonta a 10.250 euro. Noi avevamo preventivato una spesa di 600 mila euro all'anno circa, abbiamo speso nel 2014 550 mila, questo penso sia la conferma che le previsioni erano giuste. Anche per il 2015 sono confermati gli interventi a sostegno dei negozi di vicinato. I criteri sono identici a quelli dell'anno scorso e riguardano l'assortimento dei generi alimentari, il numero di abitanti, almeno 150 residenti, la distanza di almeno due chilometri e mezzo dal prossimo esercizio commerciale e un volume d'affari medio negli ultimi tre anni non superiore ai 400 mila euro. Il sostegno da parte della giunta provinciale è molto importante per noi perché noi qua abbiamo 52 settimane l'anno abbiamo aperto e cerchiamo di avere un vasto assortimento. Noi qua siamo un punto di incontro per tutto il paese e questo ci dà una grande soddisfazione. Tutte le informazioni riguardo alle misure di sostegno e agli esercizi di vicinato sono a vostra disposizione sul sito della Ripartizione Economia all'indirizzo www.provincia.bz.it